E salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati qui in questo mio nuovo video. Allora ragazzuoli, come state? Tutto bene? Auguri di buone feste, di un buon Natale passato e auguri per un capodanno, per un nuovo anno che verrà. Allora, detto ciò ragazzi, come potete leggere benissimo da titolo sopra in alto, oggi andiamo un pochettino a tirare le somme, ciò che è stata la prima parte di stagione per quanto riguarda il nostro amato Milan. Prima parte di stagione che ci vede momentaneamente, se conti in classifica, a meno quattro punti dall'Inter capolista, dove quest'anno l'Inter sembra veramente un'armata, sembra la candidata numero uno per la vittoria finale dello scudetto, però tutto sommato, nonostante le nostre difficoltà, noi siamo lì aggrappati a meno quattro punti e abbiamo il dovere e l'obbligo di crederci sempre fino alla fine, fino all'ultima giornata di campionato, fino a quanto la matematica non ci contannerà. Un Milan fuori tuttavia anche dalla Champions League, quindi iniziamo un pochettino a tirare le prime somme di questa prima parte di stagione con i migliori e i peggiori finora del Milan. Allora, partiamo dalla porta, partiamo da Mainan, voto 7, dove quest'anno è arrivato per sostituire Donnarumma, fresco fresco, neocampione di Francia con il Lille e nessuno obiettivamente si aspettava un Mainan così forte. Voto 7 in pagella finora per il buon gatto volante, ti dà una sicurezza devastante in porta nelle uscite, è molto sicuro, ha degli ottimi piedi, anche bravo nei rilanci, è un grande portiere. Mainan finora promosso a 100%, anche se buona parte quest'anno è stato limitato per via del suo infortunio alla mano. Per quanto riguarda la difesa, troviamo il nostro Davidigno Calabrigno sulla fascia destra, voto 6 e mezzo, indubbiamente fosse il miglior terzino destro di tutta quanta la Serie A, 6 e mezzo per il buon Davide Calabria, dove fino a quanto lo abbiamo avuto disponibile, la fascia destra faceva avanti e indietro come un tannato, avanti e indietro come un treno. Il nostro Davide Calabria negli ultimi anni è cresciuto sicuramente tantissimo, è un grande terzino destro, cuore rosso-nero direttamente dal vivaio di Milan, bravissimo ad abbinare quantità a qualità sulla fascia destra, quindi voto 6 e mezzo. Mentre a centro coppia centrale difensiva troviamo Kiev e Tomodi, 7 per tutti e due, da una parte troviamo il danese, Kiev disciplinato in campo, sempre pronto, si fa trovare sempre pronto, mai impreparato e ordinato tatticamente, quindi voto 7 per Kiev e voto 7 per Tomodi che è completamente l'opposto di Kiev. Se il buon danese ha l'apparenza, è calmo, tranquillo e disciplinato tatticamente Tomodi, è tutto l'opposto, è una bestia, aggressivo, temperamento alto, ti pressa tutto campo, non ti lascia mai spazio, all'attaccante non lascia mai spazio, quindi grande Tomodi, grandissimo Tomodi, voto 7 anche per lui. Poi veniamo un pochettino alla nota dolente della fascia sinistra, ovvero il buon Teo Ennandez che a inizio stagione è partito abbastanza male, poi sembrava essersi ripreso, insomma sembrava che il buon Teo era ritornato il Teo che abbiamo tanto ammirato nella scorsa stagione, fino a vincere la Nations League con la Francia, sembrava in netta ripresa, poi ha avuto il Covid, è stato fuori per Covid e da lì post-Covid Teo Ennandez ha sbagliato una partita dietro l'altra, dove soprattutto in fase difensiva ha fatto tanti di quei danni come la grandine. Ora fortunatamente Teo sembra in netta ripresa, sembra che stia ritornando pian piano, anche segnato nell'ultima giornata di campionato, quindi Teo ti aspettiamo, Teo all'anno nuovo, torna quello che sei sempre stato, perché questo Milan ha bisogno di te. Finita la difesa, ora passiamo a centrocampo, dove troviamo Chessy e Ben Nased 5 per tutti e due, proprio a mani basse. Iniziamo da Chessy, Chessy è lontano parente anche lui di quello che è stato l'anno scorso, soprattutto complice il suo rinnovo di contratto che ancora non è arrivato, ma secondo me Chessy ormai mentalmente è un ex giocatore del Milan, secondo me sarà ceduto a gennaio per non perderlo a parametro zero a giugno, che sì, finora un completo disastro. Nelle partite, in tutta la prima parte di stagione insomma è stato lento, svogliato, impacciato, ha sbagliato una quantità impressionante di passaggi. A centrocampo ha perso tanti di quei palloni dove in alcune partite purtroppo ci è costato anche qualche punto, quindi Chessy voto 5. di Chessy si salvano solo due o tre partite in questa stagione. La partita nelle prime giornate di campionato con la Lazio, Milan-Lazio 2 a 0, la partita contro l'Atletico Madrid, dove l'assist per Messias dell'1 a 0 del Milan è ad opera di Chessy, e nell'ultima giornata Chessy comunque ha fatto doppietta con l'Empoli, quindi personalmente salvò solo queste tre partite da parte di Chessy quest'anno, in questa prima parte di stagione. Per il resto Chessy sei un fantasma, uno zombie vivente nel centrocampo del Milan. Cinque anche per Benazèd, dove sto ragazzo non si capisce. Altenna partite da Fenomeno da otto in Pagella, tante partite da quattro in Pagella, quindi alti e bassi anche per Benazèd. Voto totale finora per quanto mi riguarda cinque in Pagella. Invece per il buon Santrino Tonali do un otto in Pagella, è sicuramente uno dei migliori di Milan in questa prima parte di stagione. Tonali, a differenza dell'anno scorso, è cresciuto tantissimo, ha avuto una crescita spaventosa, disumana. Che cazzo gli hanno dato a Milanello quest'anno a Tonali per farlo crescere in un modo devastante? Questo Milan attualmente non può fare a meno della presenza di Tonali a centrocampo. Tonali abbina quantità a qualità in una maniera devastante e quando purtroppo in qualche partita Tonali è mancato, si è sentita parecchia la sua assenza. Prendiamo per esempio la partita contro l'Udinese 1-1 dove Tonali è entrato nel secondo tempo e dopo l'ingresso di Tonali in Milan ha deciso di giocare a calcio dove all'ultimo in Milan ha pareggiato la partita con Ibraimovic. Per quanto riguarda l'attacco invece do un 6,5 al buon folettino spagnolo Ibraim Diaz. Diaz che è partito come un fulmine nella prima parte di stagione. Trascinava in Milan in tutte le partite. Poi anche lui è stato, ha avuto il Covid, è stato positivo al Covid. e da quando è ritornato post Covid, Diaz sembra totalmente un altro giocatore, sta sbagliando tutte le partite ma nel suo caso, così come nel caso di Trennantes, secondo me è abbastanza normale, devono recuperare piano piano la condizione fisica. Per quanto riguarda invece Salemekes, al buon Salamantra do un 6,5. Comunque il buon Salemekes non sarà chissà che giocatore a livello tecnico, ma comunque è un giocatore che in campo ci mette sempre la grinta, ci mette sempre il cuore, ci mette sempre l'anima, fa avanti e indietro per tutto il campo. L'unica pecca secondo me di Salemekes deve iniziare a fare qualche gollettino in più, perché in due anni quasi di Milan un'ala come Salemekes che ha collezionato nemmeno 5 o 6 gol in due anni di Milan, secondo me sono un pochettino, sono un po' pochini. E poi passiamo dalla parte sinistra al buon Rafael Leao che dopo Tonali ha avuto una crescita a livello spaventoso quest'anno Leao. Se vediamo il Leao di quest'anno, paragonato al Leao dell'anno scorso, proprio non c'è paragone, è completamente un altro giocatore dove purtroppo nelle ultime giornate Leao è infortunato e la sua assenza su quella dannata fascia sinistra si è sentita tantissimo perché Leao quest'anno ha veramente una marcia in più rispetto a tutti gli altri giocatori del Milan, ha una facilità di dribbling, ha una facilità di palleggio, ha una facilità di velocità e di saltarti l'uomo in cossa che veramente hanno pochi giocatori a monto. Quindi per Leao un bel 8 in Vagella se lo merita tutto. E poi comunque di Leao in questa prima parte di stagione rimane a tutti noi i tifosi rossoneri, la favolosa rovesciata contro l'Atletico Madrid in Champions League dove prese la travessa che, madonna mia, si entrava, cascava giù tutto San Siro, che poi fischiavano fuori gioco nonostante Leao prese la travessa ma poi nelle immagini era tutto tranne che fuori gioco ma lasciamo stare. Quest'anno purtroppo gli arbitri in campo europeo contro il Milan hanno avuto dei particolari occhi di riguardo ma lasciamo stare, lasciamo stare questa è un'altra cosa, è un'altra storia. Poi per quanto riguarda Ibrahimovic, voto 7, ragazzi dite quello che volete su Ibrahimovic 40 anni, 7 milioni a stagione, sono tutte minchiate. La vera verità è che Ibra a 40 anni quanto sta bene fisicamente è ancora uno degli attaccanti più forti e più devastanti in tutta Europa. quando Ibrahimovic è a 100% fisicamente, anche a 40 anni ti fa la differenza. Infatti finora mi sembra che Ibrahimovic sia il capocannoniere di questo Milan che ha segnato 6, 7, 8, 9 gol, ora non mi ricordo quanti gol ha fatto finora Ibrahimovic. Comunque Ibrahimovic quanto è in forma è ancora uno dei primi dieci attaccanti più forti di tutta Europa e su questo non ci piove. Finita la squadra titolare passiamo un attimino alle riserve, alle pagelle delle riserve dove partiamo dalla porta da buon Tatarusano che quando ha dovuto rimpiazzare Magnan secondo me lo ha fatto alla grandissima, non alla grande, alla grandissima alla faccia di tutti i tifosi milanisti che erano scettici e pessimisti già in partenza. Tatarusano quando ha dovuto sostituire Magnan lo ha sostituito in modo impeccabile tralasciando stare la partita di Firenze dove lì tutto il Milan in quella partita andò in vacanza ma per il resto Tatarusano si è dimostrato un buon secondo portiere dove una partita su tutti i derby di San Siro con la parata del caccio di rigore su Lautaro Martinez ha fatto in modo di non far perdere quel derby al Milan e anche contro il Torino Milan Torino 1 a 0 in campionato verso gli ultimi minuti comunque Tatarusano si è verso complice di una parata strepitosa dove ha salvato il risultato per il Milan quindi per il buon Tatarusano 6 e mezzo in pagella per quanto riguarda la difesa invece troviamo Romagnoli 5 e mezzo a me Romagnoli non mi è mai piaciuto è un insulto quanto porta la fascia di capitano e soprattutto ogni volta che lo vedo con la 13 di Nesta di Nesta ripeto la 13 di Nesta scusate è entrato un attimo mio padre in camera ma comunque vabbè quando faccio il video mi devono interrompere vabbè comunque lasciando stare ciò stavo dicendo 5 e mezzo per Romagnoli a me non mi è mai piaciuto e vederlo ogni volta con la fascia di capitano e la 13 di Nesta secondo me è un sacrilegio è un insulto alla storia del Milan voto 5 e mezzo per Romagnoli voto 2 per il buon Gabbia che l'unica partita che ha fatto quest'anno è stato contro la Fiorentina e non l'avesse mai fatta quella partita finì 4 a 3 per la Fiorentina dove Gabbia fu autore in modo purtroppo negativo almeno di 3 gol da parte della Fiorentina voto 2 in pagella spero fino a fine stagione di non vedere più Gabbia in campo per quanto riguarda invece Calulu voto 6 e mezzo quelle pochissime volte che ha giocato comunque ha fatto sempre bene 4 per Ballotore 4 per Ballotore invece è un terzino nel caso di Ballotore ragazzi voglio fare una piccola premessa è un terzino che tecnicamente avrebbe ha pure le potenzialità a livello fisico e tecnico però non è pronto per la Serie A non è pronto ancora per giocare ad alti livelli in questo Milan quindi voto 4 barra 4 e mezzo per Ballotore Lorenzi voto 6 quelle pochissime volte che ha giocato non ha fatto né male né bene semplicemente ha fatto il compitino e comunque anche lui reduce da tantissimi infortuni che finora lo hanno limitato moltissimo poi che abbiamo che abbiamo più abbiamo Bakayoko 4 4 in Bagella per Bakayoko Bakayoko quest'anno non si sa che cazzo ha Bakayoko è lontano parente del Bakayoko che abbiamo tanto ammirato nel Milan di Gattuso anche se lì secondo me fu molto bravo Gattuso in quella stagione che riuscì a far coesistere a centrocampo insieme sia a Bakayoko che che si infatti in quell'anno si completavano a Vicenta quindi Bakayoko voto 4 in Bagella è un fottuto palo della luce lento con due cazzuole sapete cosa sono le cazzuole ragazzi la cazzuola sapete cos'è è quell'annese a forma triangolo che usa il muratore quando deve passare il cemento sul mattone ecco Bakayoko a posto dei piedi ha due fottute cazzuole è un fottuto palo della luce lento imbacciato quasi nemmeno lui non si rende conto in quel momento quando gioca e dove si trova quindi voto 4 in Bagella per il buon Bakayoko poi che abbiamo più messaias dove li posso dare dove li do un voto sei più comunque nelle ultime partite ha fatto il suo ha fatto gol all'atletico ha fatto due o tre gol decisivi in campionato che hanno portato punti a Milan lasciando stare comunque la sua prima partita negli ultimi dieci minuti contro l'Atalanta dove entrò in una maniera disastrosa procurò i digole per l'Atalanta poi vabbè secondo gol dell'Atalanta comunque c'era un mezzo fallo ma diciamo che un gol e mezzo nella partita contro l'Atalanta comunque è colpa di messaias per il resto nelle altre partite comunque ha fatto il suo ha fatto gol pesanti ha segnato in Champions League soprattutto contro l'Atletico il gol della speranza che ci ha fatto illudere e sognare a tutti noi i tifosi rossoneri nell'ultima giornata di Champions contro il Liverpool un sogno durato 90 minuti dove abbiamo avuto ad un certo punto l'illusione sull'1-0 del Milan contro il Liverpool di passare il turno da secondi e di andare agli ottavi di Champions League poi vabbè il Liverpool ce ne ha fatti due e arrivederci sogni di gloria comunque sei più per il buon Messias sei più anche per il buon Castiglieco che fino a quest'estate sembrava completamente in partenza da casa Milan sembrava che dovesse cambiare squadra escluso dalla lista della Champions League nelle pochissime volte che comunque Castiglieco quest'anno ha giocato è stato anche abbastanza fondamentale per noi e vediamo infatti la vittoria contro i Veroni di Mondo a San Siro 3 a 2 l'autogol di Verona nasce da un grosso di Castiglieco così come l'1 a 1 di Milan contro l'Udinese a Udine il gol di Ibraimovic nasce anche da un grosso di Castiglieco comunque sei più in pagella per il buon Castiglieco di lui possiamo dire quello che vogliamo io in primis l'ho criticato l'ho criticato all'infinito un miliardo di volte comunque Castiglieco quando gioca a di là dei limiti tecnici comunque non gli si può dire che non suda la maglia quindi questo bisogna riconoscerlo a Castiglieco poi vabbè a posto dei piedi a due saponette lo trovi lo trovi in continuazione per terra ma quello è un altro conto poi Daniele Mardini poi abbiamo Daniele Mardini come sostituto di Diaz che voto li possiamo dare al figlio di Mardini io personalmente vi do un voto 5 Bagella lasciando stare il gol contro la Spezia nelle altre partite quanto ha giocato non è che ha fatto come dire questo salto di qualità sicuramente se il buon figlio di Paolo Mardini venisse dato in prestito per una stagione barra 2 sicuramente ne gioverebbe in Milan in primis che si toglierebbe di un peso morto e poi comunque ne gioverebbe anche il buon Daniele Mardini che per un anno barra 2 in prestito avrebbe l'opportunità di farsi le ossa comunque di giocare titolare in una squadra di medio-bassa classifica e crescere poi per quanto riguarda l'attacco abbiamo il buon nonno Giroud voto 5 e mezzo partito un avvio di stagione da parte di Giroud che era partito in modo molto positivo dove fece qualche gollettino sembrava che stesse a posto fisicamente poi i suoi infortuni fisici anche per lui lo hanno limitato moltissimo e comunque in generale nelle ultime partite non è che Giroud abbia entusiasmato più di tanto tralasciando stare il buon inizio avvio di stagione dove segnava con regolarità quindi 5 e mezzo per Giroud e poi infine il buon Pietro Pellegri voto 2 voto 2 anzi senza voto in realtà non ha praticamente quasi mai visto il campo di San Siro quest'anno io io ancora non riesco a spiegarmi perché il Milan è andato a prendersi in prestito un giocatore rotto da due anni dove non gioca nemmeno nel Monaco per via di tutti i suoi infortuni come se in casa milano ce ne fossero pochi di infortunati noi che facciamo ce ne andiamo addirittura a prendere in prestito gli infortunati quindi voto zero per lui in pagella senza voto semplicemente per il fatto che non l'ha quasi mai visto il campo quest'anno il buon Pietro Pellegri anche se a livello di potenziale comunque sulla carta è un ottimo giocatore ma i suoi infortuni lo stanno limitando pesantemente la sua carriera e poi senza voto infine per ultimo ma non a livello di importanza per il buon Krunic che il signore appena nato ti fulmini a te e a Pioli che ti fa giocare trequartista e addirittura esterno di attacco sulla sinistra che il buon Gesù appena nato ti possa fulminare a te e a Pioli che ti fa giocare quel pelatone di merda Krunic a di là di Pellegri quest'anno ha giocato parecchio in questo Milan e io gli do senza voto zero spaccato zero spaccato zero spaccato perché io in qualche video fa dissi che Klunic tra il giocare male e il giocare bene si trova proprio nel mezzo secondo me posto peggiore dove un giocatore possa stare nel mezzo perché non giochi né male né bene semplicemente sei lì in campo sei un fantasma dove nessuno ti vede nessuno ti calcola un fantasma che fa che pascola felicemente per il campo di San Siro un fantasma ignorato da tutti quindi sei l'inutilità fatta a persona quindi zero spaccato per Klunic che è un gol peggio del senza voto di Pellegri a meno lui all'attenuante ma Klunic è l'inutilità non dico a persona perché come persona magari Klunic è la persona più squisita di questo mondo ma come giocatore Klunic è l'inutilità fatta a persona inutile non gioca né bene né male si trova lì nel mezzo in nullo più totale poi alla fine passiamo a Pioli Pioli voto 6 voto 6 a me personalmente Pioli non è mai piaciuto come allenatore via sia per il suo 4-2-3-1 modulo che a me non piace e sia anche per i suoi metodi di lavoro dove abbiamo abbiamo infortuni a catena di livello muscolare come se grandinasse quindi Pioli tutto sommato sei in pagella i numeri parlano per lui e secondo in classifica anche se a me non piace quindi sei per Pioli in pagella e poi soprattutto comunque non mi piace il fatto che Pioli in quasi tutte le partite quest'anno debba sempre regalare un fottuto primo tempo perché Pioli non è in grado di leggere la partita e di mettere la formazione in campo e nulla ragazzi questi erano le pagelle per quanto riguarda la prima parte di stagione del milan mi scuso se il video è durato un'eternità ma ci tenevo a fare questo video se siete arrivati fino alla fine del video ragazzi lasciate sotto nei commenti un hashtag forza milan quindi che dire ragazzi il video finisce qua se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi a canale youtube che è gratis e non costa nulla mi raccomando facciamo crescere questo canale rossonero ragazzi fratelli e sorelle rossonere iscrivetevi al canale sotto nei commenti comunque ditemi la vostra opinione per quanto riguarda le mie pagelle di milan se siete d'accordo in disaccordo se avreste aggiunto o tolto qualcosa insomma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della prima parte di stagione di milan lasciate un hashtag forza milan se siete arrivati fino alla fine del video ragazzi vi auguro un continuo di buone feste a tutti quanti amici fratelli e non rossoneri e noi ragazzuoli come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao belli è sempre forza milan grazie grazie grazie